Al di sotto della media in provincia di Ragusa, le domande pervenute alla sede provinciale dell'Inps, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, per l'accesso alla pensione anticipata, secondo le nuove possibilità normative, offerte dalla cosiddetta quota 100, numero che indica la somma risultante dall'età anagrafica del richiedente e dal numero degli anni di contribuzione. Consente un accesso più breve, un accesso facilitato rispetto alla Fornero, perché consente di accedere con un duplice requisito, 62 anni di età, almeno 62 anni di età e 38 di contribuzione. Quindi dà la possibilità a chi ha conseguito entrambi i requisiti, se il lavoratore è privato, entro tre mesi di raggiungere la pensione, se il lavoratore è pubblico, entro sei mesi. Oltre questo, quindi questa ha una validità triennale, oltre questo il legislatore con questo decreto ha anche sospeso l'adeguamento all'aspettativa di vita per il requisito della pensione di anzianità svincolata dall'età, quella che si raggiungeva a 42 anni e 10 per gli uomini e 41 e 10 per le donne. Anche per quest'anno e per il prossimo triennio viene confermato questo, quindi non viene innalzato, è adeguato all'aspettativa di vita, ma viene mantenuto questo requisito per l'uscita. In provincia di Ragusa attualmente il numero di domande presentate risulta inferiore sia alla media regionale che nazionale. Ci sono state in realtà anche siciliane in cui hanno dato più riscontro, ci sono state più domande, però naturalmente è ancora tutto il divenire perché è normale che anche la persona vuole capire quale sarà la sua pensione, quale sarà l'importo della sua pensione, che tipo di prospettiva si pone davanti. Per adesso abbiamo 211 domande ad oggi di quota 100, sia nel pubblico che nel privato. E ancora attendiamo il comparto della scuola che ancora ha tempo fino al 28 febbraio per fare domande. In quale settore si registra percentualmente il più alto numero di domande? Nell'ambito privato. Nell'ambito privato abbiamo avuto oltre 150 domande su 211, quindi per adesso abbiamo una stragrande maggioranza di lavoratori privati rispetto al pubblico. Qual è l'effetto penalizzante in termini di consistenza dell'assegno dell'uscita anticipata dal rapporto di lavoro? Più contribuzione sia e più questa rende, pertanto la pensione viene più alta. È naturale che per una pensione calcolata con 38 anni è inferiore rispetto a una con 40, 42. Questo è nel meccanismo di calcolo che vuole questo. Però è naturale che ogni persona correttamente si farà fare il proprio preventivo, il proprio sviluppo pensionistico per valutare se fare questa scelta o meno. Grazie a tutti.